Ave Maria amici di Maria Vision, siamo finalmente giunti al giorno della festa del perdono qui di Assisi. Le fonti narrano che nel 1216 San Francesco è immerso nella preghiera presso la Porzuncola, quando improvvisamente dilaga nella chiesina una vivissima luce ed egli vide sopra l'altare il Cristo e la sua mamma Santissima, circondati da una moltitudine di angeli. Essi gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco è immediata. Ti prego che tutti coloro che pentiti e confessati verranno a visitare questa chiesa ottengano ampio e generoso perdono con una completa rimissione di tutte le colpe. Quello che tu chiedi, oh frate Francesco, è grande. Gli dice il Signore, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza. Francesco si presenta subito al Pontefice Onorio III che lo ascolta con attenzione e dà la sua approvazione. Alla domanda, Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza? Il Santo risponde, Padre Santo, non domando anni, ma anime. E il felice d'agosto del 1216, insieme ai Vescovi dell'Umbria, annuncio al popolo convenuto alla porziuncola. Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in paradiso. Adesso recitiamo tutti la novena che ci accompagnerà in questo cammino. Novena Santa Maria degli Angeli O Santa Madonna Regina degli Angeli, che con il mutato amore, vegli sulla nostra parrocchia affidata alla tua protezione, aiutaci a camminare sempre con fede sui sentieri che la provvidenza divina ha preparato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Santa Madonna Regina degli Angeli, ti affidiamo le nostre famiglie, i bimbi, gli anziani, gli ammalati, la comunità dei frati. Fa che l'amore di Dio regni in ogni cuore, affinché la nostra parrocchia cresca sempre più nella testimonianza del Vangelo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Santa Madonna Regina degli Angeli, ti affidiamo i nostri morti, prendili per mano e accompagnali con la tua materna intercessione nella casa del Padre, dove con te e con i Santi vivano nella pace e nella gioia. E pregate per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.